L'Olimpia nionese riparte dalle Marche contro il Monte Giorgio. Quello messo in archivio pochi giorni fa è stato un 2019 da sogno per i marchigiani. La compagine Rosso-Blu ha avuto modo di vivere la sua prima stagione in Serie D, chiusa con un girone di ritorno quasi impeccabile che le ha regalato la prima storica salvezza nel massimo torneo dilettantistico. Al giro di Boa del suo secondo anno in quarta serie, il Monte Giorgio è quinto in classifica. 30 punti che la squadra tiene ben stretti perché l'obiettivo è raggiungere al più presso la salvezza, ma se dovesse arrivare qualcosa in più sarà ben accetto. Anche l'Olimpia nionese può ritenersi ampiamente soddisfatta di quanto fatto nella prima parte di campionato, chiusa a quota 23 punti. Sarà importante affrontare il girone di ritorno con la giusta e stessa determinazione. Contro il Monte Giorgio, Mr. Pizzi dovrà fare conti con una vera e propria emergenza nel pacchetto arretrato. Non ci saranno i centrali Allegra e Ciampi appiedati dal giudice sportivo per un turno. In forse Daniele Frabotta, il classe 93, reduci da un infortunio, proverà a stringere i denti. Al centro della retroguardia giocherà insieme ad uno tra Boiacco e Dallegretta. Al contrario, se non dovesse farcela, giocheranno dal primo minuto i due under. A completare la linea difensiva di Achitè e Nicolao. Al centro del campo tornerà Peic, assente per squalifica contro il Matelica, affiancato da Viscovic e Diarrà. In avanti a cossa con Emmina Cori, tridente ormai consolidato. I Granata saranno messi subito alla prova. Prima Montegiorgio, poi Recanatese. Esattamente le due formazioni che hanno inflitto le prime due sconfitte molisani. Al Tamburrini di Montegiorgio, con fischio d'inizio alle 14.30, la gara sarà diretta dal signor Giuseppe Sassano della sezione di Padova, assistito da Francesco Festa di Barletta e Davide Fedele di Lecce.